Il comune di Gamolò è stato oggetto di visite da parte di ladri che si sono recati nel cimitero per portare via in questa zona e in questa quello che era il rame delle canitoie. Hanno fatto un lavoro a regola d'arte arrampicandosi sui canali di scolo ed entrando all'interno. Noi avevamo piazzato però tutta una serie di telecamere all'esterno del cimitero e siamo riusciti a vederli mentre arrivavano. Alcuni erano a viso coperto e altri no, però abbiamo tutte le loro fisionomie. Inoltre stiamo valutando, siccome avevamo messo delle telecamere in tutto il sistema comunale, stiamo valutando nell'arco delle ore in cui sono passati tutti i mezzi che in quelle ore risultano passare una volta ogni tanto o raramente oppure quelli che sono transitati più volte. È un lavoro piuttosto lungo ma siamo a buon punto. Speriamo a breve con i carabinieri e la polizia locale di individuarli con le targhe dei loro mezzi.